Allora, siamo già giunti alla decima edizione di questa rievocazione della battitura del grano. Niente, è un po' come tutti gli anni, facciamo alle 6 nel campo sportivo di Montemarciano, 6, anche 6 e mezzo in base al clima perché sarà molto caldo, la battitura, vecchia maniera del grano, e poi subito lì lungo il campo sportivo, all'aperto, facciamo una bella scena, tradizionale con un antipasto, una pasta asciutta e ragù casereccio fatto dalle nostre cuoche e poi un ottimo arrosto girato, dolce, vino e vin santo. Vi aspettiamo, allora la prenotazione sarebbe obbligatoria perché già ce n'è abbastanza perché oltre le 250 persone poi diventerebbe un problema. Siamo già a oltre 130-140 prenotati e si appena può arrivare al sold out. Siamo molto soddisfatti perché tutti gli anni è sempre andata bene. Poi che vi devo dire, i ringraziamenti, i ringraziamenti li do al nostro comitato perché veramente siamo tutti volontari e ci mettiamo tanto impegno e tanto sacrificio. E poi un ringraziamento anche all'amministrazione comunale con l'ufficio tecnico di Teranova che ci ha sempre supportato e sostenuto con le strutture logistiche, insomma, se no sarebbe impossibile.